Ben trovati, ben trovati ascoltatori, un'altra delle interviste musicali di Gallaradio. Oggi abbiamo qua con noi un'artista di multilivello, nel senso che non fa solo musica, fa un sacco di altre cose, Roberta Carrieri, giusto per dare due coordinate. Nell'89 partecipa ad un gruppo folk che diventa un folk a bestia, fa l'attrice col teatro Chismet Opera di Bari, partecipa ad Arezzo Wave, vince nel 99. Premio Recanati, insomma una quantità di partecipazioni, un sacco di partecipazioni con artisti di livello, tra cui Cesare Basile, Rodrigo D'Erasmo, degli After Hour, Davide Toffro, dei tre allegri ragazzi morti, Mauro Armando Giovanardi La Cruz, insomma il gota della musica bella italiana che ci piace. Ciao Roberta Ciao Davide Nicola Ciao Roberta Com'è che di tutte queste tue, come dire, capacità, aspirazione artistica, alla fine la musica mi pare che abbia avuto un ruolo predominante? In realtà io ho iniziato con la musica quando ero molto piccola, avevo tipo 15 anni e ho iniziato a suonare folk irlandese e scozzese con un gruppo di ragazzi molto più grandi di me, poi mi hanno coinvolto in un sacco di progetti e a un certo punto della mia vita ha cominciato ad annoiarmi della musica e quindi ho scoperto il teatro e ho scoperto che secondo me era la forma d'arte più interessante e completa perché racchiudeva in sé tutte le altre arti e quindi ho detto adesso basta con la musica voglio fare il teatro. Sono molto affascinato da questa commissione che in realtà è portata un po' avanti tra la musica e l'immagine comunque, c'è questo progetto PRESS dove avete incrociato il fumetto con la musica. Sì è stata un'esperienza bellissima per me perché innanzitutto a me piace tantissimo l'arte del disegno e Davide Toffolo è bravissimo e poi vedere in tempo reale perché praticamente la performance era che io suonavo la chitanna e cantavo in realtà delle canzoni sudamericane perché questo era una graphic novel che si chiamava Tress che era ambientata in un paese immaginario del Sud America e lui in tempo reale disegnava con una telecamera che riprendeva il disegno e poi proiettava il disegno sul muro. Quindi io vedevo nascere questi... ed era bellissimo interagire perché ci ascoltavamo l'un l'altro reciprocamente, ci aspettavamo e ci seguivamo facendo nascere questa immagine. È stato molto bello. Ho una specie di fidanzato che quando si sveglia al mattino si veste bambino e poi mi chiama raramente e non risponde quasi mai. Qui ha tanto, 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 tanto da fare, tanto più importante di me che mi sembra eccezionale quando ha voglia di stare con me. Ho lasciato la mia città a Bari e sono partita alla volta di Milano e non conoscevo nessuno. E piano piano ho cominciato a conoscere i musicisti, a crearmi delle situazioni qui ed era più facile per me farlo con la musica perché non si può fare tutto, anche se io vorrei fare tutto. Tra l'altro questa cosa di arrivare a Milano è un tema interessante. Milano è una città molto fredda, molto chiusa, poco ospitale. Tu come te la sei vissuta così da Barese a Milano? Da Barese io veramente ti dico che questa cosa di Milano fredda e chiusa secondo me è un luogo comune che non rispecchia davvero per quanto mi riguarda. Perché soprattutto nella zona sud dove io vivo io vedo invece la gente che per strada interagisce tantissimo, panni con le signore sull'autobus, nel panificio ti dicono bella gioia. Invece a Bari in realtà che dicono perché c'è un pugliesi, quelli del sud sono molto ospitali e mangia per l'anzana e mangia per la porta così però poi vai nei negozi e non sono così cordiali e interattivi come invece succede qui. Mi piace ricordare una cosa che è successa una volta ad un mio amico di Ferrara che l'avevo portato a Bari e il pizzaiolo mi fa Chiudi quella porta! Che sarebbe tipo chiudi quella porta che diciamo che se tu poi vai in un negozio e c'è corrente non ti dicono chiudi quella porta e ti dicono bella gioia. Bella gioia è già più uno. Potresti chiudere gentilmente poi l'accento di Milano non lo so fare però comunque ti dicono bella gioia. Me la gioia è piaciuta. Sì diciamo in Puglia sono molto diretti e un po' maleducati però questa direttezza direzione come si dice è simpatica. Qua sono un po' più formali però sono più educati e comunque secondo me non sono freddi nel senso io faccio amicizia con la gente per strada qua tranquillamente. La settimana scorsa ho suonato a Parigi che è stato bellissimo ho fatto sia un concerto che un workshop per una corale un coro un workshop sulla canzone tradizionale del sud Italia erano francesi io ho insegnato una canzone in dialetto pugliese e gli ho fatto sentire un po' un ventaglio di canzoni del sud. Adesso invece vado a Berlino e vado anche a Francoforte veramente non ho ancora pubblicato le date sul sito lo farò appena un attimo di tempo. Le altre cose bollono in pentola comunque sul sito c'è sempre scritto tutto il sito lo ricordiamo è www.robertacarrieri.com poi c'è anche il facebook la fan page e anche twitter. Rieccoci rieccoci questa è una bari vecchia e andiamo avanti con la chiacchierata con Roberta abbiamo parlato di teatro abbiamo parlato di musica e fumetti Adesso parliamo di calcio No non sono capace No senti ma di musica si vive? Sì 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 bisogna essere un po' acrobati ma si vive In che senso sono acrobati? Acrobati nel senso che diciamo non è uno stipendio fisso quindi ci sono dei periodi in cui fai tanti concerti dei periodi in cui invece magari devi scrivere e quindi non hai entrate economiche però se tu sei acrobata quindi magari a quando guadagni non ti spendi tutto in macchine calcio Donive e bucaina lo so E' un po' la storia della cicale e la formica Esattamente Bisogna fare la formichina Cicale e formiche nello stesso tempo La canzone Cadillac che è la terza traccia invece è una canzone molto autobiografica e parla di una proposta di matrimonio che io ho avuto veramente in Utah a Salt Lake City Proposta di matrimonio con anello di diamanti a Cadillac appunto che io ho rifiutato Allora io mi sono trovata con febbre 39 due notti che dovevo dormire in aeroporto e 3.000 dollari dei cashier precedenti che mi avevano pagato in contanti nascosti in uno stivale E quindi ero vestita da cowgirl con gli stivali da cowboy che mi avevano regalato sia gli stivali che il cappello da cowboy Con 3.000 dollari la febbre 39 ho dormito una notte sulla panchina di Chicago Una notte sulla panchina di Londra E poi sono arrivata a casa morta Non Dammatrap Sentido Non Dammatrap Ogni cosa è a suo posto quando al mattino il centro è chiaro Tutto si posa leggero nell'aria Sembra un sorriso, sorride, gentile Tutto si posa leggero nell'aria E ancora come ieri Hai sguardi dolci per me Per uno i tuoi sentieri Ho sguardi dolci per te Vorrei, vorrei, vorrei Portarti al mare Fare l'amore Dimenticare le cose al mare In questi giorni sto ascoltando un disco di René Aubry Che è un compositore francese che fa musica per la danza contemporanea Perché sono stata a casa sua a Parigi E mi ha regalato di Bellissimo Lui è famoso, era l'ex marito di Caroline Carson Coreografa di danza contemporanea E sto ascoltando il disco della Fono Meccanica Che è un gruppo di Milano Che fa base a Milano ma non sono tutti milanesi Che è appena uscito e ve lo consiglio E poi sto ascoltando un disco dei Magpiles Che è un gruppo di un mio amico di Bari Che abita a Dublino Che è appena uscito Io ascolto i dischi degli amici ragazzi Comunque vi dico a me piace Nick Cave Ma mi piace anche Rihanna Madonna Ma anche gli Instruzzen de lo e Bauden Sai spaziare insomma Mi piace tanto tutta la musica Ma è bello anche questo approccio Ascolto i miei amici insomma Che frequentando musicisti Lì si pesca insomma E poi sono scalette Varie scalette La scaletta da 20 minuti La scaletta da un'ora La scaletta che ho fatto In Francia La scaletta che ho fatto Cambia la seconda E allora ce l'hai un altro pezzo Sì sì Sto pensando a quale Penso che posso farvi Vediamo un po' Vi faccio relazione complicata Non lo voglio sicuro Questa canzone è molto particolare Perché Ogni strofa parla di un fidanzato Che io ho avuto E sono tutti uno Peggio dell'altro Anche questa non è Autoperegola No no Non è anche di autoperegola No no Questa l'altra Era più lunga Cioè diciamo Siccome ogni strofa Parla di un fidanzato Diverso Si sente un'interferenza Sì C'è un po' di fruscio In cuffia Vedo che arriva solo in cuffia Quindi possiamo Tenerci il fastidio Adesso contro un uomo I cavi Non si capisco Perchetto Vado Si se non ti da fastidio vai No no a me non da fastidio Il mio primo amore aveva un altro amore Per la sostanza che dimenticai il dolore Pensavo di essere sola quando c'era lui Poi guardavo gli occhi E dentro ci vedevo lei Il mio secondo amore Era un po' strano Aveva tre vitanci E nascondeva il fumo Se mi portava il mare E poi c'era da temare Perchè nella cittura Aveva da tirare Come diceva il carico E forse aveva ragione Voglio la vita Voglio la vita tranquilla Ora Non c'è nella mia canzone Gli amici mi dicono Che dovrei trovare Un ragazzo normale Ma non ho ancora capito Se esiste l'amore Che non fa male Che non fa male